per sensibilizzare i consumatori di frutta, sempre in calo negli ultimi anni. Grande folla di visitatori agli stand e una clientela entusiasta. Guardiamo il servizio. SOS Frutta, emblematico, il titolo dell'iniziativa della Coldiretti organizzata questa mattina al Molo Beverello. In Italia infatti il consumo di frutta è in calo del 30% negli ultimi 15 anni. E allora la Coldiretti ha scelto di organizzare questa iniziativa per far riscoprire al consumatore le tante proprietà della frutta, in particolar modo nel periodo estivo, quando il suo consumo sarebbe ancora più necessario per il nostro organismo. Distribuiti ai tanti visitatori degli stand frutta fresca in omaggio ed anche gelati alla frutta. Inoltre è stato possibile assistere alla preparazione e all'applicazione di maschere di berrizza interamente realizzate a base di frutta. Siamo molto preoccupati perché il Consiglio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce proprio nei momenti caldi e nei momenti estrivi il consumo importante di frutta e verdura. Abbiamo registrato una diminuzione importante tra l'anno scorso e quello di quest'anno, nello stesso mese, ed evidentemente questo è per gran parte legato a una crisi e a una recessione che è in atto, ma dall'altra anche a dei momenti di tensione che vengono messi in campo perché il rapporto tra pezzo pagato in campo per arrivare alla tavola è troppo lungo, troppo lontano e inadeguato.